Ehi amici benvenuti in un nuovo video, sono da poco stati annunciati gli sconti estivi su War Thunder, al momento sono attivi solo su PC e rimarranno attivi fino all'8 luglio. Questi sconti comprendono dei pacchetti in genere di Era 6 e Era 7 del negozio interno al sito di War Thunder, quindi non riguardano veicoli per aquile d'oro né per quanto riguarda i leoni d'argento. In questo breve video voglio riassumervi un po' queste unità e consigliarvi magari quale comprare e quale no. Ovviamente sono tutte opinioni personali, molti di questi premium li ho provati e partiamo subito. Partiamo come al solito dall'America e la prima unità è l'M1KVT. In pratica si tratta di un M1 Abrams, ottica di prima generazione, cannone da 105 mm, mobilità molto molto buona, infatti ha una velocità massima di 72 km orari e una retro di 38 km orari, veramente buona. Stiva munizioni da 22 colpi protetta, in pratica se vi colpiranno la stiva munizioni l'esplosione verrà sfogata verso l'alto, quindi molto comoda. E lo consiglio rispetto all'M1A1 clickbait perché è alla stessa era, potete ricercarci le stesse cose ma è un 10.3 e costa meno. Quindi preferisco consigliarvi questo anche perché potete comprarci in accoppiata l'F5C. Anche questo può ricercare l'intero albero americano, è buono in terrestre ed è eccellente in realistica aerea e al suo BR penso non ci sia di meglio. C'è anche la 6E tram in sconto ma non lo consiglio principalmente perché non ha armi principali, scusatemi per il gioco di parole, e poi è molto più goffo rispetto all'F5C, è un aereo subsonico ed è veramente difficile utilizzarlo contro armi Fox 1. Mentre con l'F5C potete ancora cavarvela manovrando, l'A6 è estremamente goffo e contro armi radar non ce la fa. È in sconto anche l'F4S ma qualità prezzo preferisco sempre l'F5C. L'F4S non è male, ci ho fatto anche un video a riguardo sul canale, ha un buon armamento, ha gli M7F che rimangono dei missili potentissimi e ha anche un radar molto molto più che decente. Anche gli M9H stonano un po' perché non sono all aspects e quindi dovete per forza lanciarli quando lo scarico dell'aereo nemico è puntato verso di voi, però funzionano, ok? Funzionano magari contro i bersagli distratti. Gli M7F invece sono letali, quindi a volte conviene portare di più 6 M7F piuttosto che 4 M9H e 4 M7F. Mi stavo quasi dimenticando dell'A10, c'è anche lui in sconto? No, no ragazzi, no, è figo, è un meme, ok? Però l'F5C, ok, può ricercare un A10 che è meglio, ovvero l'A10A che tra l'altro è più forte ancora dell'A10A Premium perché ha il doppio delle M9L, ha dei Maverick, ovvero dei missili anticarro più moderni, quindi piuttosto vi consiglio l'A10 del Tech 3 rispetto a quello Premium e poi l'F5C vi insegna a manovrare effettivamente con un jet. È un signor jet l'F5C, eh? Dovrò farci un video a riguardo prima o poi. E quindi imparate veramente a utilizzare le armi principali e non le armi secondarie. So che sembra assurdo per un jet, però nel caso dell'F5C le armi principali sono veramente principali perché gli M9E fanno pietà, i suoi due cannoni da 20mm in aggiunta alla sua mobilità lo rendono letale. Quindi in via definitiva consiglio F5C e M1KVT per la vostra line-up A10A3. Ci sarebbe anche l'Apaci come elicottero Premium, ma non ve lo posso assolutamente consigliare perché si tratta di un veicolo superfluo, essendo che c'è questa magia qua. In pratica con l'M1KVT potete ricercare tutti gli elicotteri perché spuntate questa casellina qua e tutta la ricerca che otterrete in realistica terrestre con l'M1KVT in questo caso verrà investita per ricercare gli elicotteri. Andiamo avanti con la Germania e vi consiglio subito il Leopard 2 A4. Non penso ci sia bisogno di parlarvene del Leopard 2, però ha una stiva munizioni protetta da 16 colpi uno in canna e 15 all'interno della stiva munizioni vera e propria mobilità eccellente, 31 in retro, 68 in avanti protezione più che decente, 4 membri dell'equipaggio purtroppo non ha una mitra elettrice pesante ma ha una 7,62 e basta, 120 mm questa è la differenza con l'M1KVT che appunto rimane un 10.3 ma con il 105 mm mentre l'Eopard 2 A4 ha un 120, l'L44 non penso ci sia nient'altro da aggiungere, è incredibile come premium e sinceramente lo valuto meglio rispetto al Leopard 2 A4 M perché potete avere la stessa esperienza del Leopard 2 A4 M con il Leopard 2 PL esperienza nel senso di feeling di gioco, ok? più o meno è lo stesso, forse è anche meglio il Leopard 2 PL perché è più leggero però a livello di ricerca il Leopard 2 A4 fa esattamente quello che fa il Leopard 2 A4 M potete ricercare tutto l'albero tedesco forse l'unica cosa è che il Leopard 2 A4 M ha delle ottiche migliori del Leopard 2 però cos'è il doppio? anzi, di più del doppio quindi, ok, valutate voi ci sarebbe anche lui in sconto, era divertentissimo al suo tempo però ha fatto il suo ed è molto meglio puntare sul Leopard 2 A4 per quanto riguarda gli elicotteri tedeschi non c'è niente in sconto andiamo all'aeronautica è una nota dolente ragazzi perché purtroppo né il Tornado di DS né il MiG-21 Lasura M e il MiG-21 Bis valgono quello che costano purtroppo sono due unità abbastanza mediocri e devo essere sincero non vale neanche la pena il Tectree tedesco al momento cioè praticamente spendete 35 euro per delle unità mediocri per arrivare ad altre unità mediocri quindi non saprei che cosa dirvi devo essere sincero queste unità proprio non mi piacciono non riesco a farmene piacere al momento aspetterei aspetterei prima di investire su queste due unità aspetterei magari un Eurofighter allora, ok, lì avrebbe un senso c'è l'Eurofighter sicuramente lo metteranno qua o comunque o in era 8 o in era 9 e allora lì avrebbe un senso prendere l'unità perché l'Eurofighter sarebbe una delle unità più versatili in War Thunder ma al momento avete un MiG-29G con un RVR che fa schifo l'F4F che sì ha armamento moderno ma il vettore è vecchio appunto l'F4 è vecchissimo e secondo me il difetto principale che ha è che ha pochissime contromisure 90 sono veramente veramente poche per il suo livello quindi davvero non posso consigliarvi nessuno dei due al momento andiamo avanti con la Russia e in sconto il T-72AV non ve lo posso consigliare andava preso il 2S38 con gli ultimi sconti e basta sinceramente non penso ci sia nient'altro da aggiungere il 2S38 è estremamente più versato del T-72 quindi per chi vuole comprare il T-72 o comunque vuole prendere un premium adesso russo magari dico aspetta novembre e comprati il 2S38 alla metà del prezzo no? non vi va? no? comunque no davvero il T-72 ha delle buonissime ottiche tra l'altro sono italiane il sistema d'arma è buono però la mobilità non c'è e no non ve lo posso consigliare il T-72 ce l'ho l'ho provato diverse volte ci ho fatto tantissime partite però il 2S38 lo utilizzo tranquillamente in era 8 a 11 e 7 a 12 e 7 non è un problema T-72 no invece ci sarebbe anche il T-55 AM1 in sconto è un buonissimo carro mi sono divertito molto utilizzarlo però è in era 6 quindi non potete ricercarci tutto l'albero andiamo avanti con l'aeronautica russa e al momento sono in sconto il MiG-23 ML il Su-39 e il Su-25K il Su-25 il Su-39 direi di no il Su-25 perché è un era 6 il Su-39 perché è molto buono in realistica terrestre ma finisce lì cioè in realistica aerea ne vedete veramente pochi e quelli che vedete solitamente vengono buttati giù io preferisco il MiG-23 ML anche in realistica terrestre certo è difficile ingaggiare con il MiG-23 ML i bersagli di terra avete veramente poco armamento a 4 piloni e quindi al massimo vi potete portare dietro 4 razzi S-24B che reputo i migliori per quanto riguarda questo aereo considerate che il MiG-23 ML in realistica aerea è molto molto buono e quindi potete farmare molto di più rispetto al Su-39 perché se utilizzate il Su-39 per farmare gli aerei in realistica terrestre andate veramente veramente a rilento perché ci guadagnete davvero poco a distruggere i carri armati nemici in realistica terrestre rispetto a distruggere gli aerei nemici in realistica aerea quindi se volete completare la vostra line up che ne so avete il 2S-38 allora magari il Su-25 ha senso oppure avete il T-90 il T-80 BVM un Su-39 ci può stare però per chi vuole farmare tutto il Tech 3 il MiG-23 ML è molto meglio ci sarebbe in sconto anche il K-50 ma vale il discorso che ho fatto prima in pratica non conviene comprare un premium elicottero per ricercare gli elicotteri magari potete comprarlo per provarlo cioè ok questo questo è il massimo però il K-50 ragazzi è peggiorato negli anni sia perché hanno messo tantissime nuove antiaeree molto molto letali sia perché hanno messo tantissimi nuovi elicotteri meglio del K-50 banalmente il Mangusta perciò valutate voi ancora una volta armamento antiaereo ne ha poco può portare soltanto due Igla sono davvero pochi a me non piace devo essere sincero non piace una volta i Vikir facevano veramente male adesso c'è di molto meglio quindi no no sconsigliato proseguiamo con la Gran Bretagna e al momento in sconto c'è il Challenger DS consigliato è un 10.3 la mobilità non è il massimo però un cannone da 120 mm il problema non è la velocità in avanti e in retro il problema è la sua accelerazione infatti ci mette diverso tempo a raggiungere queste velocità e questo è il principale problema del Challenger DS ha un'ottica termica di prima generazione l'ho provato e non è affatto male per il suo livello sicuramente meglio rispetto al Challenger 2 OES per quanto riguarda invece gli elicotteri inglesi c'è il G-Links in sconto ha poco armamento l'armamento che ha non mi fa impazzire però è velocissimo è velocissimo e comunque può portare 4 Stinger a me diverte molto questo elicottero ma non ve lo consiglio perché ancora una volta il discorso che ho fatto prima però è bello è bello se vi piace andare forte con un elicottero soprattutto a cacciare gli altri elicotteri o gli altri aerei questa roba è incredibile a poco armamento dovete soltanto considerare questo ma non ci mettete tanto a tornare nell'eliporto a ricaricare quindi divertenti mi sono divertito molto a usarlo per quanto riguarda l'aeronautica inglese hanno scontato l'F4J-UK che purtroppo è peggio dell'F4S infatti ha gli Sky Flash e non gli IM7F perciò prendete l'F4S se volete provare un F4 per la parte terrestre del Giappone hanno scontato il tipo 16 o type 16 no è un Era 6 è un ruotato no 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 non ci siamo ragazzi proprio no andiamo avanti con gli elicotteri qua niente per quanto riguarda l'aeronautica anche per l'F4 giapponese stesso discorso prendete l'F4S degli IM7E va bene ok prendete l'F4S passiamo alla Cina c'è lo ZTZ96A in sconto fatemi guardare una cosa perché non mi ricordo in teoria dovrebbe far pietà la mobilità esatto 6 km l'ora in retro è praticamente un T55 10.0 ottiche dovrebbero essere di prima generazione se non ricordo male se ha le ottiche termiche ah un gustoso seconda gen dai pensavo peggio pensavo molto peggio devo essere sincero ha una mobilità migliore del T72 attenzione valutatelo valutatelo il TEC 3 cinese qualche perla ce l'ha considerate che ha i carri armati russi ma meglio soprattutto per quanto riguarda la MBT2000 e il VZ1001 e anche lo ZTZ99A io sto utilizzando tantissimo questa line up che non è ad alto BR ma mi diverte molto 4.0 T34 M4A1 in era 3 è veramente un BR che mi diverte per quanto riguarda l'aeronautica hanno scontato la 5C e il J7D io con la 5C mi sono divertito un sacco ma non ve lo posso consigliare perché è un era 6 e il J7D è un MiG21 ok contro misure 72 pensavo peggio a 4R60 mi stai dicendo vero non sono neanche R60M sono R60 e basta no poi non so l'aeronautica cinese ha perso molto devo essere sincero una volta era molto meglio una volta c'era l'F16A MLU come top tier come il top dell'aeronautica cinese che in realtà è taiwanese e però adesso abbastanza meh c'è sì c'è il J11A però a sto punto vi prendete il MiG23ML che è meglio di queste due robe e basta no però andiamo avanti per quanto riguarda l'Italia a questo giro niente perché purtroppo il Centaurio non è in sconto l'AF40 era in sconto qualche mese fa elicotteri niente aeronautica c'è l'F104S però direi di no direi proprio di no vi devo dire anche perché va bene ve lo dico poche contromisure zero mobilità armi veramente mediocre e quindi no non ve lo posso consigliare davvero purtroppo ci hanno dato un'altra alternativa che è la MXA1A però anche questo fa pietà è il caso di dire War Thunder non è un pay to win perché se pagate utilizzate degli aerei che fanno pietà rispetto alle unità che ci sono nel Tech 3 soprattutto in questo caso vabbè ragazzi ma poi mi fa ridere perché c'è l'F104S la MX e poi nel Tech 3 Gripen a V8B è tornato ADV F16 ADF va bene dai andiamo avanti che forse è meglio per quanto riguarda la Francia hanno scontato il Mirage F1C200 mi ha divertito abbastanza potete portare 4 anzi 5 missili al massimo ma io ve ne consiglio 4 perché il quinto generalmente non serve a niente perché si infatti ha 2 Magic 2 sulle i piloni più esterni mentre può portare 2 missili Matra Super 530F che sono dei missili Fox 1 volendo potete portarvi anche il Matra 530 e il Matra 530E ma devo essere sincero ragazzi preferisco portarmi dietro la tannica mi pare molto più utile devo essere sincero però si è un buon aero se volete farmare il Tech 3 francese non è cambiato molto con il Benelux perché alla fine rimane il Mirage 2005F quello da da puntare perché ha più missili ok più missili dell'F16 e migliori quindi a livello di manovrabilità ovviamente vabbè non so non so perché l'hanno aggiunta questa nazione però vabbè la Svezia eccoci qua allora CV90105 in sconto da prendere e subito è incredibile autoloader mobilità assurda l'ho ci ho fatto un video qualche anno fa ormai però è veramente veramente figo recentemente gli hanno aggiunto dei missili tandem non so la loro utilità però ci sta ok va bene è un'aggiunta che comunque fa piacere però veramente buono molto meglio anche dell'Eopard 2A4 e tra l'altro potete ricercare le stesse cose con il CV90105 per quanto riguarda l'aeronautica è in sconto il J35XS no vedete quella scritta sotto cannone da 30 mm contro misure di grosso calibro 12 sono un po' poche per un 10 e 7 soprattutto perché potete incontrare su 25 a 10 non è che potete li incontrerete sicuramente e 12 contro misure e state nell'hangar cioè capite cosa sta dicendo è terribile questo aereo va bene manovrate quanto volete però la M9L non l'ho schivato neanche un R60 se ve lo lanciano veramente male potete evitarlo però ragazzi no no è orribile questo aereo non so neanche perché la gente lo compra il fatto è che l'albero svedese avrebbe un senso ricercarlo se fosse l'unico con il Gripen allora direi ok va bene porca vacca il Gripen per me è uno dei migliori top tier se non il migliore ti tocca ricercare gli aerei svedesi ma visto che c'era l'Italia la Gran Bretagna non ha senso perciò vabbè che dispiacere ma non potevano dare un altro subtec 3 alla Svezia che un F-16 qua non avrebbe fatto male invece che alla Francia ok Israele allora c'è in sconto il Kifir Canard e se non sbaglio basta sì solo il Kifir Canard no no 36 contromisure 2 missili ehm questo è il massimo tutto il resto per bombardare ragazzi non bombardate con i jet non bombardate con i jet cioè magari se il vos se avete qualche pilone libero e siete tranquilli perché comunque avete un sacco di armamento anti-aereo allora va bene soprattutto se avete armi anti-aeree come gli R-60M gli IM-9L allora lì ha un senso ma il Kifir Canard ragazzi ma cioè praticamente spawnate per dare punti agli altri le ho sempre viste così queste unità cioè per fidare per far giocare gli altri no hai questo aereo che si difende a malapena carico di bombe pesantissimo che è facilissimo da intercettare pochissime contromisure quindi sai che è condannato basta mettergli un po' di pressione no no detto questo ragazzi penso che sia tutto per questo video grazie ancora per essere passati lasciatemi un mi piace un non mi piace un commento e ci becchiamo al prossimo video ciao 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 ciao